Già Dalini portaci in finale, si è il tormentone questo è il tormentone, poi qual'è quello nuovo? allora, co come mai, co come mai, tu Già Dalini non la batti mai è un gruppo dei giocatori di pallone che gioca con mio figlio che hanno 14 anni in piena esplosione ormonare e ogni settimana mi mandano il video con il tormentone però la cosa che mi fa ridere è che non nominano giochi però siccome io sono un situazionista, dico benissimo l'importante è che se va già Dalini in finale di fatto ci vanno tutti i giorni terzi sabato sera stanno a casa a guardarci invece di uscire stanno a casa a guardarci infatti che mio figlio a 16 anni sabato sera non esce i tuoi figli del profondo Veneto ma io lui non esce sabato sera intanto portiamo a casa il fatto che siamo qua esatto grazie a tutti grazie a tutti